www.feyyaz.tv Fermate! Fermate! Sta cazzata hai preso! Questa cosa è fatta, no? Sa lavorare a un parcheggio, non è fa la guardia, è diverso. Fa la guardia a un parcheggio? Sassi, trova il battagliare! Ma questo si affatto! Grazie, Gesù, per averci adottate nella tua vita. Gesù è come il navigatore della macchina. E che fa il navigatore quando sbagliate strada, quando vi perdete, no? Mica dice, ora ammazzata, avevo detto gira a sinistra, sei andato a destra, a domani! No! Ricalcola il percorso. Vi riporta sempre a casa. Già ti sei fatto cacciata al centro commerciale. Io ho la fila di gente qua fuori che mi sta a chiedere il lavoro. La fila per fare guardia i zingati. Vedete, fuggiati, ecco, sono a finire come questi. Fina colpa mia. Questi che sono? I vicini. Come ti chiami? Agnese. Stefano. Che? Ti volevo ringraziare. Allora, tranquilla. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Un'iniziativa che sostiene i ragazzi che hanno deciso di arrivare in castità al matrimonio. Perché tu ci devi ancora pensare? Sì. Come tutti gli altri. È una mia scelta. Cioè, come sai quando ti devi fermare? E lo sa Dio quando mi devo fermare. Che cosa è stata Agnese? Parlami, eh! Ti ho fatto una domanda, no? Agnese! Io voglio rimanere pura. Tu sei pura. Quando sono arrivata a Milano ho dovuto imparare a essere italiana. La fortuna della nostra famiglia è costruita sulla fabbrica. Averso alla famiglia è costruita una grande Перera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'ho dei casini a casa. Scusa, lo sai che poco poco che mi capita sotto Filippo te lo castigo. Dormi. Dai, è quasi muro. Vieni prima che tu dalle persiani. Lei deve pretendere di vivere in un mondo migliore. Non si accontente di sopravvivere. Grazie a tutti. Non si accontente di sopravvivere. Non si accontente di sopravvivere. E' finita tra di noi. Nicola. 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 Non si accontente di sopravvivere. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti